ma sapete che il mercato della Roma mi sta casando un botto qualcuno adesso dirà neschio sei diventato anche romanista quando in realtà sapete io mi lascio sempre trasportare da chi poi rende anche vivo il nostro campionato e avere queste entrate rende tutto molto più allettante e la Roma cavolo se lo è allettante, intrigante, affascinante con tali movimenti con tali prospettive a partire dal cambio di dirigenza i solfì, si lavora, l'allenatore questi prospetti la Roma ha chiuso anche per Tovbic è arrivata la formata bianca definitiva Tovbic la Roma è andata a prendere il capo cannoniere della Liga ho detto la Roma la Roma è andata a prendere il capo cannoniere della Liga senza storie, senza chiacchiere e questo è affascinante perché io partirei proprio da questo che la Roma sa farsi valere no? si rende credibili dinanzi anche giocatori che ripeto l'anno scorso hanno segnato 24 gol nella Liga numeri importanti di un giocatore possente otto eh sì 1,89 cm no? granitico no? uno di quelli che è capace di fare reparto lì davanti uno di quelli che in una competizione come la Serie A secondo me di gol ne fa ne fa e come se ne fa la Roma ha preso Tovbic oh Lukaku qua la Roma ha preso Tovbic ha preso Tovbic la prima ha preso anche Lefe si Colossex i nomi che mi spuntano qua su Le qualche altro giovane prospetto di cui magari oggi non ne siamo neanche così tanto a conoscenza non gli diamo magari il giusto peso ma io partirei sempre come al solito no? dall'alto dalla mente perché poi io voglio andare soprattutto a valutare a fine stagione il lavoro svolto da Ghi Sofì che oggi sembrerebbe essere di grande di grande livello ma se se dico voglio partire dall'alto devo partire allora dai Friedkin perché già da tempo i Friedkin ti hanno fatto capire che vogliono fare le cose serie e farle per bene perché altrimenti piaccia non piaccia non ti vai non ti andavano a prendere Murigno tempo fa ecco la scelta di Murigno ti fa capire determinate cose su quello che vuole essere il risultato poi qualcuno quando Murigno è stato messo all'angolo perché non l'aveva portati quei risultati che i Friedkin vogliono però mi danno l'idea davvero che questi vogliono fare le cose in grande ma andiamo a Dovbic un attimino perché poi se no dobbiamo levarci di tono anche i discorsi burocratici fumata bianca che è arrivata grazie all'ultimo intervento appunto di Ghisolfì leve aumento sul prezzo pare 33-34 milioni di parte fissa qualche bonus forse 5 non lo so è arrivato l'irguigod di domano che ci dice 36 pacchetto complessivo fatto stare che siamo su queste cifre più un 10% sull'eventuale rivendita no? ed è questo no? il cartel la 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 trattativa si è esaurita con queste condizioni cifre importanti per un classe 97 uno che ha 27 anni che nel pieno della propria maturtà che ribadisco quello che mi è colpito di sto ragazzo è che al primo anno di Liga di Valayla come direbbe un certo Borghi la brutalizza a suon a suon di gol e e quindi secondo me è un grande acquisto per il post Lukaku un grande acquisto assolutamente poi come diciamo sempre e non senza e Simmer neanche questa volta vedremo cosa dire al campo ma oggi di certo ci si riscalda dinanzi a questi colpi la Roma ha già gente di buon livello pensare ad un attacco composto da Solet Tibala Dovbic mi affascina mi mi cioè mi 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 quando dovrò andare a vedere le partite della Roma cioè io le attendo ecco perché poi sapete qua si parla sempre di calcio 360 gradi quindi mi lascio trasportare ma come dicevo prima è l'intero mercato della Roma che in questo momento fa fa sognare fa sognare e è il fatto che alcuni giocatori scelgano la Roma quando magari hanno offerte anche più più allettanti ecco Dovbic rinuncia all'Atletico Madrid cioè la cosa più importante di tutto ciò è che Dovbic rinuncia all'Atletico Madrid rinuncia a una squadra che fa la Champions a una competizione a una Liga dove tu già sei a tuo agio e dove già hai fatto tanti gol rifiuta la comfort zone tra virgolette e sposa la Roma cioè è questa la risposta più importante che oggi ottengono i tifosi della Roma al netto di come andrà quindi c'è chi davvero crede tanto nel progetto Roma anche perché il progetto Roma lo stiamo vedendo è sempre più credibile ecco quindi non è che ci sia tanto altro da aggiungere in merito dopo tutte queste dopo tutte queste premenze ragazzone a questo punto vediamo cosa ci darà il campo fatemi sapere se c'è qualche tifoso dalla Roma sotto nei commenti no come accogliete quali sono le vibes vibrazioni fatemelo sapere ragazzi va bene io nell'attesa vi abbraccio caramente a tutti un abbraccio spero che si senta bene mi sono avvicinato a me perché la tua volta si sentiva una mazza quindi perdonatemi